L'altro giorno mia figlia mi ha chiesto, mamma, ma perché la lista libero e uguali con grasso presidente è alternativa alle altre forze politiche? Ecco, io provo a rispondere a lei, a tanti ragazzi e ragazze che si stanno chiedendo che cosa andare a votare alle prossime elezioni politiche che saranno verosimilmente a marzo. Allora, noi siamo l'unica forza politica nuova in campo, perché da una parte abbiamo la coalizione di centrodestra guidata da Berlusconi che ha governato per oltre 20 anni in questo paese con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti e stiamo parlando comunque di una persona che ha più di 80 anni e dentro la coalizione c'è un Sarbini che ha come unico obiettivo quello di scatenare guerre tra poveri in Italia che non servono a nessuno e a uscire da un'Europa che forse è l'unico contenitore nel quale possiamo verosimilmente stare, cambiarlo ma stare dentro l'Europa. Dall'altra parte abbiamo un partito democratico a guida Renziana che abbiamo visto che cosa ha fatto in questi anni e poi un Movimento 5 Stelle guidato da Di Maio e Grillo che più che dire no a tutto, più che essere sempre all'opposizione non ha saputo fare e poi alla prova del 9 dove stanno governando si sono rivelati per quello che sono, cioè assolutamente incapaci. Allora l'unica novità davvero alle prossime elezioni politiche siamo noi, è la lista liberi uguali con grasso presidente e abbiamo in mente di rivedere completamente le politiche che purtroppo hanno distrutto l'Italia negli ultimi vent'anni perché abbiamo bisogno di più giustizia, perché abbiamo bisogno di avere una società più uguale, ecco perché questo nome nel nostro termine, abbiamo bisogno di essere più liberi perché la libertà è un bene assoluto e se l'individuo è libero è in grado di creare anche una società più giusta e più uguale. Quindi alle prossime elezioni politiche davvero vi consiglio di votare liberi e uguali con grasso presidente.